Tu, hai sapere, ma che ti ti è successo tra me e tuo padre? Fu una cosa difficilissima. E tu non lo vuoi capire, e io sono un uomo di onore. E tu non lo vuoi capire, e io sono un uomo di onore. E tu non lo vuoi capire, e io sono un uomo di onore. E tu non lo vuoi capire, io sono un uomo di... Di dove salvare i schifo, io sono un uomo di mode. E mi face? E io sono un uomo, e io sono un uomo di malo. E io sono un uomo di uomo di avere una voce che non lo vuoi capire. E non lo vuoi capire, c'è una voce che non lo vuoi capire. Non mi face? Non, non ci sono un uomo di a fare, nel più flanto di iniziato. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti